Benvenuti a un nuovo episodio di Sicurezza Comportamentale, il podcast dove esploriamo la sicurezza sul lavoro attraverso la lente della psicologia comportamentale. Io sono Matteo Massironi, psicologo, formatore ed RSPP e oggi discuteremo un argomento fondamentale per chiunque si occupi di sicurezza. La sicurezza tradizionale rispetto al nuovo approccio alla sicurezza, noto anche come safety differently o new view. Negli ultimi anni il modo in cui pensiamo alla sicurezza sul lavoro è cambiato radicalmente. Tradizionalmente la sicurezza era vista come un insieme di regole e procedure che i lavoratori dovevano seguire per evitare incidenti. Questo approccio, per quanto ben intenzionato, spesso vedeva i lavoratori come il problema da controllare. Al contrario il nuovo approccio alla sicurezza, promosso da esperti come il DOT. Sidney Decker e altri vede i lavoratori come parte della soluzione. Oggi esploreremo queste due visioni contrastanti e vedremo come il passaggio alla safety differently possa migliorare la cultura della sicurezza nelle nostre organizzazioni. La sicurezza tradizionale si basa su un paradigma di controllo e conformità. Le organizzazioni creano una serie di regole e procedure che i lavoratori devono seguire scrupolosamente. L'idea centrale è che più regole ci sono, meno probabilità ci sono di incidenti. Questo approccio ha alcuni pilastri fondamentali. Primo, il controllo del comportamento. Si ritiene che i lavoratori debbano essere controllati strettamente. Ogni deviazione dalle procedure stabilite è vista come un rischio potenziale. Secondo, la responsabilità verso l'alto. La responsabilità per la sicurezza risiede principalmente nei livelli manageriali. I dirigenti sono responsabili di assicurarsi che i lavoratori seguano le regole. Terzo, l'enfasi sulle metriche. Il successo della sicurezza viene misurato attraverso metriche come il tasso di incidenti zero. Questo approccio è molto orientato ai numeri e spesso ignora i fattori umani e organizzativi sottostanti. Infine, punizioni e ricompense. I lavoratori che non rispettano le regole vengono puniti, mentre quelli che le rispettano vengono ricompensati. Questo sistema di carota e bastone mira a incentivare il comportamento desiderato. Secondo Sam Goodman, noto esperto di sicurezza e autore del libro Safety Sucks, questo approccio può avere gravi limitazioni. Goodman sottolinea che la sicurezza tradizionale tende a creare una cultura di sfiducia e paura. Quando i lavoratori temono le punizioni, sono meno propensi a segnalare errori o quasi incidenti, riducendo così la possibilità di imparare da questi eventi. Il DOT James Rison, famoso per il suo modello del formaggio svizzero, ha evidenziato come gli incidenti spesso derivano da una combinazione di errori umani e difetti sistemici. Concentrarsi solo sul comportamento individuale dei lavoratori, senza considerare i fattori sistemici, può portare a una falsa sensazione di sicurezza. Il nuovo approccio alla sicurezza, noto come Safety Differently, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui pensiamo alla sicurezza sul lavoro. Questo paradigma si basa su alcuni principi chiave. Primo, i lavoratori come soluzione. Invece di vedere i lavoratori come il problema da controllare, li vediamo come la soluzione. I lavoratori sono considerati esperti del loro lavoro e le loro opinioni e esperienze sono fondamentali per migliorare la sicurezza. Secondo, la responsabilità verso il basso. La responsabilità per la sicurezza viene distribuita a tutti i livelli dell'organizzazione. I lavoratori hanno la responsabilità di segnalare problemi e proporre soluzioni, creando una cultura di collaborazione e condivisione. Terzo, l'enfasi sull'apprendimento. L'obiettivo principale non è raggiungere lo zero incidenti, ma creare un ambiente dove l'apprendimento è continuo. Gli errori ai quasi incidenti sono visti come opportunità per imparare e migliorare i processi. Infine, creazione di fiducia e apertura. Perché i lavoratori si sentano liberi di segnalare problemi e condividere le loro esperienze, è fondamentale creare un ambiente di fiducia e apertura. La trasparenza e l'onestà sono al centro di questo approccio. Il passaggio a un approccio safety differently può portare numerosi benefici. La DOT.SS a Michelle Duffy, esperta in relazioni interpersonali e sicurezza, sottolinea che un ambiente di lavoro caratterizzato da fiducia e apertura può migliorare non solo la sicurezza, ma anche il benessere generale dei lavoratori. Quando i lavoratori si sentono ascoltati e valorizzati, sono più motivati e impegnati. Il dotupo che per Scott Geller, pioniere nel campo della sicurezza basata sul comportamento, ha dimostrato che la responsabilizzazione dei dipendenti è fondamentale per creare una cultura della sicurezza sostenibile. Quando i lavoratori sono coinvolti attivamente nel processo di sicurezza, diventano più consapevoli dei rischi e più propensi a seguire le procedure di sicurezza. Passare dalla sicurezza tradizionale alla safety differently richiede un cambiamento culturale significativo. Ecco alcuni passi pratici che le organizzazioni possono adottare. Prima di tutto, coinvolgimento dei lavoratori. Chiedete ai lavoratori di condividere le loro esperienze e suggerimenti su come migliorare la sicurezza. Create gruppi di lavoro o comitati di sicurezza composti da rappresentanti di vari livelli e reparti. Secondo, formazione e sviluppo. Offrite formazione continua ai lavoratori non solo sulle procedure di sicurezza, ma anche su competenze non tecniche come la comunicazione e la risoluzione dei problemi. La dot.ssa Rona Flynn, esperta in competenze non tecniche, sottolinea l'importanza di queste competenze per la gestione della sicurezza. Terzo, creazione di un ambiente di fiducia. Lavorate per costruire un ambiente di lavoro dove i lavoratori si sentano sicuri nel segnalare problemi e errori. Questo richiede una leadership che sia aperta e trasparente e che risponda positivamente alle segnalazioni dei lavoratori. Infine, focus sull'apprendimento. Implementate un sistema per raccogliere e analizzare dati sugli incidenti e quasi incidenti. Utilizzate questi dati per identificare tendenze e aree di miglioramento e condividete i risultati con tutti i livelli dell'organizzazione. La transizione dalla sicurezza tradizionale alla Safety Differently rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui pensiamo e gestiamo la sicurezza sul lavoro. Questo nuovo approccio, che vede i lavoratori come parte della soluzione e si concentra sull'apprendimento continuo, ha il potenziale di creare ambienti di lavoro più sicuri e più sani. Come ha detto il DOT, Thomas Krauss, fondatore della Behavior Based Safety BBS, la sicurezza non è solo l'assenza di incidenti, ma la presenza di capacità organizzative e individuali che permettono di identificare e gestire i rischi in modo proattivo. Vi invito a riflettere su come il vostro approccio alla sicurezza può evolvere e migliorare. Coinvolgete i vostri lavoratori, create un ambiente di fiducia e puntate sull'apprendimento continuo. Solo così possiamo costruire un futuro dove la sicurezza è una responsabilità condivisa e una realtà tangibile. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Sicurezza Comportamentale. Continuate a seguirci per ulteriori discussioni e approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro. Alla prossima!